Ha deciso di parlare e ha risposto alle domande del GIP Daniele Colucci, il somalo di 22 anni, ospite di un centro di accoglienza di Campomarino Lido e accusato di istigazione al terrorismo. Il giovane fermato dalla Digos di Campobasso ha respinto le contestazioni negando di progettare attentati e di voler fuggire per arruolarsi in Siria. L'interrogatorio in carcere a Larino si è tenuto in lingua araba con l'aiuto di un interprete alla presenza del sostituto Federico Carrae e dell'avvocato Antonio Di Renzo. Ha parlato in arabo, io penso che si sia reso conto della situazione ma più che altro ha risposto a mio avviso anche in maniera puntuale alle accuse che gli sono state mosse, quindi alle varie intercettazioni, ai vari stralci di intercettazioni, alle varie domande. Come le ha definite? Ma guardi, alcune cose sono anche diciamo un po' particolari, nel senso che ci sono delle terminologie che delle volte si riferiscono anche a situazioni di profeti storici, voglio dire che la procura ha inteso forse massimizzare fino a farla definire come un attivista dell'Isis. Il giovane richiedente asilo non era un imam e non voleva fare proseriti con finalità terroristiche, nulla di quanto emerso dalle indagini a suo carico coordinate dalla procura di Campobasso. Questo avrebbe in sostanza sostenuto durante l'udienza di convalida in cui la procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Lui non voleva andare in Siria e tantomeno ha mai parlato di Roma, di questo fantomatico attentato che si doveva fare a Roma. Come sta vivendo questa situazione? Beh, io lo vedo molto provato. Un ragazzo di 21 anni che sta in un carcere, in una nazione dove praticamente viene limitata la sua libertà per un reato che l'istigazione, ribadisco istigazione, non è un terrorista, l'istigazione. Quindi voglio dire, si sente provato da questo perché dice naturalmente io non ho fatto nulla perché devo stare in carcere. Lui è arabo o è somolo? C'è questo dubbio anche sulle sue origini? Allora, lui è nato a Riyadh da genitori, da come dice lui, somali. Quindi dopo è ritornato in Somalia, è dovuto fuggire per questa famosa ala Shabab che viene utilizzata invece come una prova contro di lui. Quindi vedete, configurare in questo ragazzo una persona che possa prevedere un attentato in una città italiana o andare in Siria a ruolarsi io in questo momento stento a crederci. Poi se durante le indagini ci saranno dei riscontri più precisi e più puntuali si vedrà una strategia difensiva diversa.